Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa di mercoledì 20 novembre 2019, siamo in diretta e siete sul canale 17 di Fano TV, carissimi telespettatori di Fano TV, a voi tutti giunga il nostro più cordiale saluto e il benvenuti. Cominciamo dal santo di oggi, vediamolo subito e poi come di consueto daremo un'occhiata anche al tempo. Il beato Ambrogio Traversari tra i vari santi e beati, c'è anche Sant'Admondo, San Basilio Martire, i santi Ottavio eccetera eccetera. Il sole sorgerà alle 7.08, tramonterà alle 16.09. Il cielo sarà oggi, inizialmente sarà nuvoloso anche con qualche pioggia sulla fascia costiera e anche sulla prima collina. Avremo rovesci sparsi nella prima parte della giornata, lungo tutta la costa come dicevamo, ma nel corso della mattinata questa pioggia andrà a cessare. Tra l'altro sono nuvole che arrivano proprio dal mare, le temperature sono in diminuzione, ancora venti che soffieranno soprattutto sulla costa con intensità in attenuazione nel corso della giornata. Per quanto riguarda giovedì, quindi domani, la protezione civile delle Marche prevede un cielo nuvoloso, parzialmente nuvoloso ma senza precipitazioni, con temperature in aumento nei valori massimi. Ancora venti da sud, lungo la costa, a volte a tratti anche moderati. Per quanto riguarda la giornata di venerdì invece avremo cielo sereno poco nuvoloso, con temperature senza variazioni di rilievo, ma saremo ancora così in compagnia del vento che soffierà da sud, lungo la costa. Condizioni stabili per la giornata di sabato, con probabile peggioramento per quella di domenica, mentre migliorerà l'inizio della prossima settimana. E adesso andiamo a vedere subito i giornali, cominciamo dal resto dal Corriere Adriatico, anzi è l'edizione di Pesaro. Il mega show accende il Natale, la piazza, piazza del popolo, ovviamente è a numero chiuso, sabato non si potranno accogliere più di 3.500 persone, sbarrati anche alcuni accessi. Poi la nomina di 5 primari nell'azienda Marche Nord da parte del direttore generale Maria Capalbo, appena riconfermata dal presidente Ceriscioli. Il centro della pagina invece è per la foto che riguarda l'autovelox installato sulle Siligate, nel tratto da Rimini verso Pesaro, teatro tra le altre cose di numerosi e tragici incidenti. Il dispositivo funzionerà anche durante la notte. Statale 16, i residenti chiedono sicurezza. Trattative all'aeroporto di Falconare, aeroporto delle Marche, al Sanzio, clima pesante, gelo, a Erdori che ha 14 in mobilità, niente travaso con l'interporto. Questa invece è la pagina del resto del Carlino di Pesaro. È tutta una festa con i berretti, i cappellini di Babbo Natale. Arriva la ruota, 80.000 luci in piazza del popolo e una pioggia di iniziative. Senza tetto invece, porte aperte negli hotel, scatta il progetto protezione freddo. Basta segnalare un clochard e volontari gli trovano un alloggio. Chiaramente poi bisogna avere anche il clochard d'accordo sull'andare a dormire all'interno di un alloggio. Non tutti, pare strano, ma è così. Non tutti vogliono un tetto sotto il quale dormire. Nardo Filippetti invece gestirà il nuovo albergo della Juventus. C'è stata un'inaugurazione a Torino e lo vedremo tra poco. Mentre si parla di economia, richiamo in prima pagina con l'alta tensione che si respira tra i soci della Berloni Cucine. E poi la cronaca, compri il tablet, ti ritrovi i pacchi di sale all'interno. Sono i patacari che sono stati tre presi dalla polizia in autostrada. A Urbino invece il caso Sossai, un primario che era stato licenziato ma che un giudice lo ha reintegrato al lavoro. Mentre in via Mancini, sempre a Pesero, l'asfalto elettorale non ha retto e si è subito guastato. Velocemente andiamo a vedere Ancona. La cronaca, esplosione al distributore. Morto un giovane, tragedia nel Fermano. La vittima è un tecnico di Falconara, chiamato per la manutenzione. L'assessore invece si difende, l'inchiesta in comune, Manarini in tribunale, nuovi fronti di indagine. Ma a Pesero si parla di ruota, ma a Ancona ne hanno una davvero straordinaria. Quasi pronte in piazza Cavour, un Natale record da 350 mila euro. Ambientalisti con lode, le borracce entrano all'università. Infatti tutti gli studenti ne avranno una, l'Ateneo Rottama, la plastica. HIV, lights in corsia, nessun risarcimento per Germano Santoni. Il Ministero della Salute è stato condannato, lui però non ha ancora visto un euro. Vedremo tra poco. Il Vescovo Massara invece dà il Premier Conte sul tavolo i dossier post terremoto. La pagina di fano del Corriere Adriatico, Viale Frusaglia, un vero acquitrino. Anche i cassonetti immersi nel fango. Il disastro si ripete ad ogni pioggia. Residenti esasperati, 5 Stelle denunciano le vane promesse della Giunta. Il segretario del PD, Bacchiocchi, chiede scusa. Su questo tema la Giunta non mi ascolta. Risarcimento danni, avviato l'iter per i privati e le attività economiche. È iniziata anche la ricognizione, i tempi sono stretti. Per le domande il termine scade il 25 di novembre. In questo articolo troverete sia i numeri di telefono, sia la e-mail alla quale può inviare tutta la documentazione, tra cui lo ricordiamo non solo l'elenco, ma anche eventuali fotografie che documentino i danni che uno ha ricevuto. Via Frusaglia, stessa apertura dunque anche sulla pagina di fano del Carlino. Ormai ci vuole il gommone. Questa è la fotografia dell'acquitrino in via Frusaglia. Ad ogni pioggia, protestano i residenti, i Cinque Stelle si interrogano. Mea culpa di Fanesi, abbiamo portato la rete dell'acquedotto e il gas, ma non l'asfalto. La carreggiata cede non solo per l'incuria, ma per i cunicoli del sottosuolo. Contro l'erosione della costa interviene il professor Danovaro, che è contrario alle scogliere, perché secondo lui fanno soltanto altri danni. E in realtà dunque sarà pure impopolare, ma le scogliere sono quello che stanno chiedendo in questo momento i concessionari di spiaggia, dopo i danni delle mareggiate. E secondo questo professore sono meglio i ripascimenti. E lui dice, sostiene che le scogliere non servono, meglio il ripascimento con la sabbia prelevata a largo dell'Adriatico. Se gli operatori turistici chiedono a gran voce, a difesa delle loro concessioni, di realizzare le scogliere dove ancora non ci sono, per esempio come a Sassonia, oppure di rinforzare quelle a torrette, eccetera, eccetera, il presidente della stazione zoologica, appunto, insomma, questa persona esprime tutte le sue perplessità su queste scogliere, pennelli e frangiflutti. Le scogliere, spiega, creano due problemi principali. A questo punto, visto che Anna Marchetti ha fatto l'intervista, insomma, vi invito a leggere quali sono questi due problemi che causerebbero le scogliere. Non è mai troppo presto per dire no alla violenza. Si chiama Percorso Donna, invece è un progetto che coinvolge anche gli alunni della Luigi Rossi di Fano. Poi si parla del Pincio, con un grande flash mob di 600 studenti per le celebrazioni dei 30 anni della Convenzione dei Diritti dei Bambini e degli Adolescenti. Il Confcommercio inaugura la nuova sede in Via San Francesco, nel cuore del Centro Storico di Fano. L'associazione mette in luce però le difficoltà delle categorie. 120 metri quadrati in più, 450 totali su un solo piano per offrire maggiori servizi agli oltre 500 associati della Confcommercio di Fano. Ieri hanno inaugurato questa nuova sede operativa nel Centro Storico, annunciando che a breve cambierà anche il responsabile dell'ufficio. Marcolini dice servizi potenziati, non ci rassegniamo alla desertificazione. E adesso la pagina di Pesaro, primo piano, con le nomine di questi cinque nuovi primari da parte di Maria Capalbo. Maria Capalbo che cambia dunque l'assetto di Marche Nord. Santinelli, Pazzaglia, Mancini, Spinelli e Dascanio, direttori di altrettante unità operative complesse. E chi sono questi nuovi primari? Il Corriere Adriatico fa l'elenco. Anatomia patologica sarà affidata ad Alfredo Santinelli, 55 anni, proveniente dall'Università Politecnica di Ancona. Santinelli succede a Michele De Nictolis che si è guadagnato la quiescenza. Medicina trasfusionale sarà invece affidata a Carlo Pazzaglia, 61 anni, ematologo, pediatra e medico dell'emergenza, dipendente del San Salvatore dal 1991. Succede a Francesco Picardi, precedente direttore del servizio di immunoematologia e trasfusionale. Terzo, Mauro Mancini, 52 anni, laurea in chimica e tecnologie farmaceutiche, proveniente dal Poleclinico di Modena a Marche Nord dal 2015 e sarà il dirigente della farmacia interna. Succede a Stefano Bianchi che a gennaio ha lasciato il suo incarico. E poi, nel 1996 è arrivato a Pesaro, dopo l'esordio al Bufali di Cesena, Aureliano Spinelli, 61 anni, nuovo direttore di medicina nucleare, unità operativa che già guidava in qualità di facente funzione. Nuovo direttore dell'unità operativa di Otorino Laringoietria sarà invece Luca Dascanio, approdato a Marche Nord lo scorso mese di settembre ed è proveniente dall'ospedale civile Carlo Poma di Mantova, dopo aver prestato servizio in un ospedale a Vittorio Veneto e poi nella città di Castello. Dunque, sono queste le cinque nomine che sono state fatte appunto dal direttore generale Maria Capalbo. L'articolo però, con altri particolari e dettagli di Silvia Sinibaldi, lo troverete questa mattina sul Corriere Adriatico in Edicola. La cronaca, sale al posto dei tablet, quindi pacchi di sale, una banda di pataccare finita nei guai, in tre sono stati sorpresi dalla Polstrada nell'area di servizio Foglia Ovest, siamo nella 14. Siligate, guai ai furbetti del pedale, l'autovelox gemello non perdona, installato in direzione Gabiccio e Pesaro, teatro di incidenti mortali, il dispositivo sarà attivo anche di notte. Braccio destro di dieci sindaci, il recordman De Leo, Giuseppe De Leo, saluta il direttore generale, va in pensione dopo 43 anni di lavoro. Due lustri al fianco di Stefano Aguzzi. Dunque, la pensione dopo 43 anni di lavoro all'interno del Comune di Fano è per Giuseppe De Leo, nel mese di dicembre infatti per lui scatterà e se ne va. Dunque, in pensione è stata una figura di preciso riferimento non solo per tanti cittadini, ma anche per gli stessi amministratori che lui hanno trovato un tecnico scrupoloso e competente, tanto che gli hanno affidato diversi incarichi. E il Corriere Adriatico questa mattina fa l'elenco in questo articolo di Massimo Foghetti su quelli che sono stati appunto anche gli incarichi di Giuseppe De Leo. Il problema non è la strada, siamo a Pergola, Ma il dissesto idrogeologico. Il dirigente parla sulla strada interrotta a Monterolo con Comune e Regione chiederemo risorse al Ministero dell'Ambiente. La questione richiede risorse tali che non si possono trovare nel bilancio della provincia. Ricorderete, ieri abbiamo dato proprio la notizia che i residenti, ormai esasperati, si sono rivolti con un esposto alla Procura della Repubblica. A San Lorenzo in Campo il Sindaco revochi le due delibere sul maxi allevamento. Dopo le dichiarazioni di Dell'Onti il Comitato chiede di passare a precisi atti amministrativi. Ci dica cosa è avvenuto in conferenza dei servizi e quali ostacoli hanno impedito il via libera al progetto. Anche qui sul Carlino Maxi Pollaio il Sindaco ritiri le delibere e il Comitato di San Lorenzo in Campo contrario all'insediamento della Fileni chiede di annullare le varianti al piano regolatore in attesa di sviluppi. Se nulla è stato ancora deciso occorre che l'iter sia formalmente bloccato. Anche qui strada chiusa per la Frana. Per una Frana la provincia dice abbiamo interessato Regione e Ministero. per via Gramsci si tratta, dove ha sede la provincia, si tratta di un intervento imponente che va oltre il tratto compromesso. Siamo sulla pagina della Valle del Cesano del Corriere Adriatico. I tagliolini con la fava entrano nella storia. Il piatto caro ai mondolfesi ora fa parte della schiera dei prodotti tipici tradizionali delle marche. Il riconoscimento attribuito dopo l'indicazione delle peculiarità che lo differenziano dai tacconi. Soddisfazione naturalmente per l'associazione Magnafava che ha presentato la domanda. Ma c'è anche la cronaca da Mondolfo un incidente che ha visto protagonista un 15enne che è caduto in sella alla sua motocicletta in curva in Viale Gramsci ed è rimasto ferito. È successo intorno alle 18.30 per causa ancora da accertare. Un ragazzo di 15 anni del posto ha perso il controllo della motocicletta all'altezza della croce in un tratto di forte discesa con l'asfalto bagnato. Prima all'allenamento invece in campo al campo sportivo in erba sintetica inaugurato a Mondolfo quello che si trova in via Fermi appena inaugurato come dicevo al lavoro i ragazzi dell'arcobaleno calcio che hanno svolto una seduta tecnica. Andiamo a vedere due pagine delle marche che riguardano la cronaca. Un'esplosione avvenuta in un distributore che ha fatto perdere la vita ad un operaio di 29 anni. Una fuga di gas tra le probabili cause. Monte Urano. 29 anni di Falconara lavorava al sistema antincendio. Mentre l'altra pagina di cronaca riguarda un vecchietto, un nonno che si divertiva a sfregiare le auto in sosta. Il vandolo è appunto un uomo, un nonnino, il nonnino insomma, mica tanto nonnino, un nonno. A Falconara è successo, il danneggiatore seriale è stato smascherato da alcuni ragazzi. Lo strano rumore metallico ha insospettito il drappello di questi giovani amici che lunedì, nel tardo pomeriggio, si sono voltati nella direzione del cigolio e hanno assistito alla scena che mai avrebbero immaginato. L'indegno show in diretta del danneggiatore seriale dai capelli bianchi e dal portamento elegante. Passava vicino alle auto in sosta, dalle parti di un circolo emettendo strani gemiti, l'inutile tentativo sonoro di coprire il rumore del suo blitz da teppiste. In realtà i ragazzi sapevano che nell'ultima settimana erano state diverse le auto danneggiate in quella zona, si sono avvicinati e strabuzzando gli occhi e con la bocca aperta hanno fatto da spettatori a questo incredibile ride. Un'altra tragica, drammatica notizia che fa caponare la pelle soltanto al pensiero, quest'uomo Germano Santoni a causa di una iniezione in ospedale a 19 anni ha preso l'AIDS, ha preso l'HIV e 26 anni dopo cieco, semi-paralizzato con una vita andata in pezzi deve ancora combattere in tribunale per avere il risarcimento che gli spetta che non mi darà, dice lui, non mi ridarà mai quello che ho perso ma almeno mi consentirà una vita più dignitosa dopo tante sofferenze fisiche, morali e umane. È la storia che racconta il Carlino questa mattina sulla cronaca della regione ed è la storia di questo 45enne originario di Camerino che oggi risiede a Civitanova Marche dopo che la sua casa è stata danneggiata dal terremoto. Un conto da un milione e mezzo di euro più gli interessi ma i soldi non mi restituiranno mai dice lui quello che ho perso. Sottoparla l'Avvocato da Roma neanche un acconto è una situazione inconcepibile parla l'Avvocato Ferrarini un danno incalcolabile i ritardi hanno peggiorato la sua situazione economica abbiamo tentato dei pignoramenti in passato ma nelle tesorerie non c'era mai nulla. Urbino ex primario Sossai licenziamento illegittimo il giudice del lavoro ordine il reintegro l'Asur esegue ma il nuovo incarico porta ad una nuova causa del medico lo scontro dunque resta infinito. L'Avvocato parla di accanimento i vertici della sanità fanno ricorso. Pulizia degli ospedali sempre dalla pagina di Urbino però questa volta dal Corriere di fida dei sindacati la richiesta è stata firmata dai primi cittadini all'area vasta 1 in ballo 117 lavoratori e la qualità del servizio la CGL attacca la regione le trattative con Dussmann continuino ma è vergognoso ridurre così l'orario. Tartufo a Cagli prove di strada comune sabato e domenica al Via la nuova Kermess ideata da Confcommercio la strada del Tartufo delle Marche l'idea viene rilanciata da Cagli in occasione della manifestazione Inno al Tartufo che si svolgerà appunto sabato e domenica nella cittadina di Cagli questa invece è la bellissima non possiamo dire che non è bella guardate piazza del popolo di Pesaro illuminata durante lo show di apertura per il Natale questa è una foto dell'anno dell'anno scorso il centro storico si blinderà per lo show dell'accensione sabato 18 alle sabato scusate alle ore 18 si illumina l'albero di Natale ma in piazza del popolo non potranno entrare più di 3500 persone decisione dopo un sopraluogo tecnico chiusi gli afflussi sul corso corso 11 settembre e anche su Via Rossini questa è la pagina 1 ma la pagina 2 questa volta su questo argomento è dal resto del Carlino si accende il Natale operazione sicurezza sabato l'inaugurazione in 45 giorni sono previsti 50 eventi e gli hotel fanno il pieno con prenotazioni che sono al top Oliva che è il presidente degli albergatori di Pesaro dice i posti liberi solo nel prossimo fine settimana poi fino a fine anno tutto esaurito nei fine settimana e si alza tra le varie iniziative a Pesaro c'è anche quella dell'installazione della ruota che a dire il vero ha avuto qualche problemino di installazione non si riesce a trovare il posto e in questo caso in largo Aldomoro è stato trovato un po' di spazio ma mica tanto perché hanno dovuto tagliare anche degli alberi e quando si tagliano e si mette mano alla sega c'è sempre qualcuno che si arrabbia soprattutto quando riguarda appunto il verde pubblico niente sosta è chiusa una corsia perché qui ci sono i parcheggi qui c'è vedete Ratti il corso per poi entrare in piazza del popolo il sindaco però è sicuro del successo e lancia il weekend dei grandi eventi Berloni cucine la tensione tra i soci di maggioranza non andrebbero d'accordo i tre azionisti taiwanesi in un consiglio di amministrazione dal notaio nel pomeriggio i lavoratori sono stati poi convocati in fabbrica il consiglio di amministrazione è stato rinviato di una decina di giorni c'è un po' di preoccupazione e apprensione a chiusa di Ginestreto dove ha sede appunto la Berloni cucine non tanto perché i conti non vadano bene visto che il 2019 si chiude con 17 milioni di fatturato con un incremento del 25% rispetto allo scorso anno quanto perché ci sarebbero dei dissapori tra i soci taiwanesi che hanno le quote di maggioranza della società hotel della Juventus gestione affidata ad un pesarese chi è questo pesarese? beh insomma quando si parla di alberghi e di pesero non può essere che lui Nardo Filippetti che vedete in questa fotografia al centro al centro durante l'inaugurazione di questo hotel della Juventus tutta Torino era presente ieri con i vertici della squadra di calcio il presidente in testa Andrea Agnelli alcuni giocatori insomma ieri si è inaugurato alle 18 nel capoluogo piemontese il J-Hotel dove gesta naturalmente per Juventus è un bel albergo dove Filippetti ha una una bella quota insieme alla società gestita della Juventus insomma qui c'è il racconto di quella che questa nuova avventura di Filippetti che ha venduto sapete la sua la sua creatura ma ha mantenuto la gestione di alcuni alberghi e quindi una società ad hoc per questa gestione tra cui ci sono adesso si va ad aggiungere anche questo della Juventus ma ricordiamolo che a Pesaro gestisce gestisce Filippetti anche altri due alberghi importanti volevo darvi anche ulteriori dettagli ma li troverete sul giornale di questa mattina siamo in ritardo andiamo velocemente una raccolta fondi siamo su Senigallia per l'oratorio togliamo i ragazzi dalla strada un progetto per organizzare l'attività nella parrocchia di Marzocca ci saranno corsi di cucina e anche di musica Don Andrea il prete dice devono poter vivere il loro territorio di periferia senza fuggire e poi sulla prevenzione niente droga tra gli studenti blitz al campus senza esito luoghi di spaccio della città al setaccio da parte dei carabinieri controlli a Luna Park sempre a Senigallia multati i camion che trasportano le giostre multa per 800 euro per alcuni mezzi irregolari i carabinieri hanno fatto poi tutta una serie di verifiche anche su altre situazioni il comune illumina siamo sempre a Senigallia illumina tre strade in più e per le vie al buio però servono le offerte il comune di Senigallia chiede 50 euro come contributo volontario per tutti quelle vie e quei negozi che vorranno vedere e avere le luci le luminarie davanti nella via mentre illuminerà via Carducci via Cavour e via San Martino Vallefoglia protocollo sulla scogliosi questa è l'ultima notizia se avete problemi alla schiena c'è un luminare che sarà a Morciola di Vallefoglia si tratta di Stefano del dottor Stefano Giacomini che è un luminare italiano della chirurgia vertebrale che sarà ospite appunto nel comune di Vallefoglia il dottor Stefano Giacomini medico chirurgo ortopedico specialista in deformità delle racchide terrà un importante evento informativo scientifico nella sala comunale di staccata di Vallefoglia all'interno del centro le 100 vetrine l'appuntamento è aperto al pubblico ed è sabato 23 novembre dalle 11 alle 12 e 30 è tutto grazie per aver seguito la nostra segna stampa vi auguro una buona giornata vi do appuntamento stasera questo invece è il numero di telefono per le vostre segnalazioni arrivederci vi do appuntamento stasera vi do appuntamento stasera vi do appuntamento stasera